Sono le 7, buongiorno a tutti voi, è sabato 11 settembre, allora non possiamo che partire da questa data, perché 20 anni fa veniva colpita l'America e l'Occidente al cuore, venivano colpite le torri gemelle a New York, come dimenticare quelle immagini, non potremo mai ovviamente quegli aerei che si infilano dentro quei due grattaceri e allora da lì è cambiato qualcosa nella storia proprio dell'Occidente, nella storia dell'uomo è cambiata e naturalmente tutti i giornali ricordano questo anniversario, anche perché poi è legato molto più recentemente all'uscita dall'Afghanistan, 20 anni dopo le truppe americane della Nato lasciano l'Afghanistan e quindi vedremo che molti nei loro editoriali, nei loro commenti, nelle interviste mettono in parallelo le due situazioni. Poi naturalmente c'è anche la discussione su quanto riguarda il Green Pass, soprattutto la ripresa dell'anno scolastico con le polemiche legate proprio all'opportunità o meno di rendere obbligatorio il Green Pass, vedremo ci sono delle polemiche a distanza tra il Ministro dell'Istruzione Bianchi e i presidi sull'obbligatorietà per i genitori che vanno a scuola a portare e a riprendere i loro figli. Poi ci sono anche delle polemiche legate alle ultime dichiarazioni di Matteo Salvini a proposito delle varianti. Ma insomma, andiamo a vedere i giornali. Allora alcuni giornali, vi anticipo, alcune prime pagine hanno ripubblicato la prima pagina di 20 anni fa, quella dell'11 settembre 2001. Così vediamo la stampa, ripubblica questa foto, vedete, 20 anni dopo, 2001, 11 settembre 2021. Con il commento di Massimo Giannini, il direttore, l'11 settembre non perdemmo solo la nostra inocenza, perdemmo anche la nostra libertà. Per la prima volta, dopo la Seconda Guerra Mondiale, un'altra guerra che non avevamo dichiarato, ci mise di fronte alla relatività delle nostre culture e alla fragilità delle nostre democrazie. Noi credevamo, credevamo che questo deposito di valori che abbiamo imparato a chiamare Occidente fosse un modello acquisito per noi e attrattivo per tutti. Credevamo che le fondamenta di ogni democrazia liberale, cioè le Costituzioni, lo Stato laico, la separazione dei poteri, i Parlamenti e l'alleanza tra capitale e lavoro, potessero reggere ogni urto della storia. Ci sbagliavamo. Dopo l'89 la storia non era finita. Se un Dio era morto era solo il nostro, quello degli altri era più vivo che mai e incubava rabbia, predicava vendetta. Questo è l'inizio del commento del direttore della stampa Giannini. Poi c'è l'altra prima pagina della stampa, quota 100, coro di no, Salvini e sui conti torna l'Unione Europea del rigore. Questa è la prima pagina. Allora voglio farvi vedere però, restando in tema, anche Libero pubblica la vecchia prima pagina. Forza America reagisce, tra l'altro vedete sopra c'è un'ipotesi di vittime, per fortuna smentita. Più di 20.000 morti a New York, paura di attentati anche in Italia. Il mondo aspetta una risposta al terrorismo islamico. E poi sotto, guardate, nella notte attacco missilistico contro Kabul e quindi torniamo a parlare di Afghanistan. Riandiamo sulle prime pagine, ripartiamo dal Corriere della Sera. Ritorno a scuola, dubbi e tensioni presi di rischio caos sul Green Pass per i genitori, messa la Ministra a controlli per gli studenti negli Atenei. E accanto a sinistra, ecco il ricordo dei vent'anni dall'attacco alle Torri Gemelle, l'America divisa sulla memoria dell'11 settembre. Massimo Gaggi la ferita aperta. E poi una notizia di cronaca, incredibile, ieri una tromba d'aria improvvisa si è abbattuta sull'isola di Pantelleria, ha provocato due vittime e nove feriti. Alcuni di essi sono ricoverati in condizioni gravi, ma i vigili del fuoco accorsi sull'isola stanno verificando se possano esserci, naturalmente speriamo di no, anche altri dispersi. E poi sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera vi segnalo questa intervista a Zaia, nel partito è vincente la linea dei governatori. Andiamo a vedere Repubblica, il titolo di apertura, i talebani colpiscono donne oppositori, oggi festeggeremo, questo è il titolo del reportage dell'inviato in Afghanistan, Pietro del Re, e poi la bandiera americana, nella città sopravvissuta e terroristi al virus non ci ferma nessuno. Il titolo però centrale, eccolo, sui vaccini, pressing sull'obbligo, l'ipotesi si rafforza dopo la linea dura varata da Biden. Palazzo Chigi studia il piano per attuarlo, un mese per decidere, Brunetta, Green Pass, il ministro Brunetta, Green Pass per gli statali e nelle aziende private, si di confindustria, scuola, la carta verde divide però, come vi dicevo prima, i genitori. E poi allarme degli scienziati aumentano i no alla prima dose. E Eugenio Scalfari, eccolo, se le parole diventano di ghiaccio e poi Federico Rampini parla ovviamente di America, la spinta dell'America. Andiamo a vedere il messaggero, il titolo d'apertura, lavoro verso il pass per tutti, il governo valuta un decreto unico sull'obbligo di certificazione per pubblica amministrazione aziende private, Novax, allarme, lupi solitari, un allarme che è arrivato ieri dalla ministra dell'interno Lamorgese. E poi effetto pandemia, raddoppiati, tentati, suicidi tra i giovanissimi. Spegnò di avere il tempo di andare a leggere nel dettaglio questo perché è veramente un allarme inquietante. La fotonotizia, vent'anni dopo una ferita aperta, un 11 settembre. E poi il messaggero continua a seguire da vicino la vicenda all'Italia, la protesta ora si allarga, scatta lo sciopero bianco dei bagagli. E ancora abbiamo il tempo rapidamente di vedere il titolo d'apertura del Fatto Quotidiano. Il processo a Salvini in nord l'ha mollato dopo Durigone Green Pass, buio sopra il Po. 7 e 6 minuti. Ci fermiamo per qualche istante, una pausa per bere un caffè e ci rivediamo subito dopo e riprendiamo la lettura dei giornali. Vi aspettiamo, noi siamo qui. Grazie. 7 e 11 minuti, ben ritrovati. Allora, intanto ho preso la prima pagina del Sole 24 Ore e andiamo a vedere il titolo principale, una buona notizia, produzione su più delle attese, quelle che sono le previsioni. E in alto c'è il titolo però su Alitalia. Ieri c'erano state delle proteste qui a Roma, si è deciso di riaprire nuovamente un tavolo per la trattativa, però notizia, eccola, l'Unione Europea fa decollare ITA, ITA vi ricordo è la compagnia che subentrerà dall'Italia dal 15 di ottobre, ma condanna il prestito a restituire 900 milioni all'Italia. E poi in basso, patto di stabilità, Unione Europea, apertura alle modifiche, ma il nord va all'attacco. Questo è il Sole 24 Ore, vediamo un altro giornale, vediamo il domani. Scuole freddo stanno arrivando e la pandemia non è ancora finita, non siamo usciti dalla crisi. Mentre si avvicinano la riapertura delle scuole e l'inizio dell'autunno, il virus circola molto più di un anno fa. I vaccini ci proteggono, ma abbassare la guardia rischioso, i casi di Israele e Stati Uniti sono un monito. Questo è quello che scrive il domani. Poi il foglio, eccolo nel titolo centrale, ricorda l'11 settembre a Jalalabad. Sono vent'anni che sogniamo questo momento, ci dicono i talebani, dentro a una base degli americani, che ora è loro come tutto l'Afghanistan. Qui il tempo è passato più veloce, riscattato dalla vittoria. Questo è il foglio. Vediamo il giornale. Stretta sul vaccino, scuola di obbligo dopo il giro di vita negli istituti, Draghi punta al siero per gli statali già giovedì in Consiglio dei Ministri. Associazione a delinquere per i Novax. Questa è l'ipotesi di denuncia. E poi in alto questa foto davvero di impatto dell'11 settembre. Recuperiamo l'orgoglio per non perdere la memoria. L'editoriale del direttore Augusto Minzolini. All'interno c'è uno speciale sull'11 settembre. E allora, vi avevo detto, prima vi ho fatto vedere la pagina di vent'anni fa di Libero. Ecco quella di oggi. Clamorosa lettera del 1994. Zan era leghista, eppure convinto. Zan, vi ricordo, è legato al disegno di legge Zan. Ha scritto all'indipendente perché da fervente federalista criticava quelli che passavano ad AN, Alleanza Nazionale, il partito di fine. Il primo voto l'ha dato al Carroccio. E poi, eccolo qui, il ricordo dell'11 settembre di Libero, vent'anni dopo, con la pagina che abbiamo visto in precedenza. Il manifesto. Ital-Italia, questo è il titolo che c'è in alto. La lotta riapre la trattativa. Successo della manifestazione a Roma, a Bruxelles, lo Stato richieda i 900 milioni prestati. E poi la fotonotizia, vedete queste immane nube che si alza dalle torri gemelle, che presumibilmente sono appena collassate, è ferita aperta. Oggi, vent'anni fa, l'attacco al cuore degli Stati Uniti. Biden, Obama e George W. Bush nei luoghi della memoria. Trump assente sull'America che ricorda il peso delle domande in evase sulla pista saudita e sul disastro della lunga guerra in Afghanistan. Vediamo la verità. La cappa di silenzio sui dati fa quasi più danni del Covid. C'è il divieto di fare domande. Pfizer chiede l'ok alle dosi tra 5 e 15 anni, ma vaccinare i piccoli non ha senso. Tutti i siti sulle reazioni avverse, però raddoppiano le morti correlabili, secondo AIFA, alle iniezioni. Vogliono l'obbligo che non ferma né contagi né decessi. Abbiamo un problema di diritto all'informazione. E poi però torna a parlare. Ricordate quest'estate le rave nel Viterbese? E allora torna su quella notizia. Il Viminale, cioè il Ministero degli Interni, sapeva delle rave. Ecco le prove. Già l'11 agosto, tre giorni prima dello sconcio di Viterbo, i partecipanti avrebbero cercato di bivaccare sul Po. Fatti sloggiare, hanno potuto proseguire, scortati fino alle porte di Roma, dove hanno dato inizio alle danze. Scusate, e chiudiamo la lettura delle prime pagine con il quotidiano avvenire. 11 settembre, il mondo cambiato e le paure dei giovani. E poi il taglio centrale, piccoli profughi nel ricordo di una ragazza siriana, la carovana per i diritti di chi ha dovuto lasciare le proprie case. Questa era la prima pagina di avvenire. Allora, andiamo a vedere gli approfondimenti. Partiamo dal Corriere della Sera. Vi ho detto che una delle questioni più aperte relative al Green Pass è quella sull'inizio dell'anno scolastico, quindi sulla scuola. E allora, che cosa scrive il Corriere della Sera? Pronta la piattaforma per monitorare i certificati verdi, cioè il Green Pass dei docenti. I dirigenti scolastici con i genitori rischiamo il caos assembramenti, perché la polemica di quest'ora è proprio questa, cioè sull'obbligatorietà per i genitori che si recano presso la scuola a portare i propri figli o a riprenderli, che abbiano il Green Pass, cioè il passaporto vaccinale. E allora sotto, vediamo quali sono i problemi aperti. Le mascherine, il virus protetto in aula per ora, il ricambio dell'aria, finestre aperte o impianti filtranti, quarantena di 7 o 10 giorni per i casi positivi, e poi tamponi, test salivari per scovare il virus. Questa è la sintesi, diciamo, dei problemi, delle questioni aperte. Allora, sempre sul Corriere della Sera, pagina 3, c'è un'intervista alla Ministra Messa. I controlli saranno a campione, la domanda errata nel test di medicina verrà eliminata. Il prof può verificare il Green Pass negli Atenei, lo studente che non lo ha rischia anche una multa. Allora, vediamo un po' più nel dettaglio. Dice, come si possono, questa è la domanda che le viene posta, come si possono controllare ogni giorno i Green Pass di migliaia di studenti? Il controllo, risponde la Ministra, sarà a campione. Agli esami potrà farlo il professore, un suo delegato prima dell'interrogazione. Per i docenti e il personale universitario, il controllo è uno a uno. Gli Atenei più piccoli riescono a farlo all'ingresso, quelli più grandi stanno attivando delle piattaforme. E se trovano studenti senza Green Pass, lo fanno uscire, è un po' come sul treno, che si scende alla stazione successiva. E ancora, 600 professori che hanno firmato l'appello contro il Green Pass, compreso lo storico Alessandro Beberio, non la vedono così. Ho preso dell'appello dai giornali, non mi sembra che ci sia preoccupazione sul Green Pass. Ripeto, lo spirito è un altro. Vaccinarsi per tornare in sicurezza. Questa è la posizione espressa attraverso la Ministra Messa del Governo. Andiamo a vedere ancora. Continuiamo però. A proposito di Green Pass, perché lo sapete, si discute se estenderlo, se renderlo obbligatorio. Allora c'è la retroscena di Emanuele Lauria su Repubblica, a proposito di quello che sta valutando Palazzo Chigi. Allora, ecco il titolo. Già studia la misura, un mese per decidere. A Palazzo Chigi, senza troppo clamore, si stanno compiendo gli approfondimenti giuridici necessari a introdurre l'obbligo del vaccino anticovid su larga scala. Uno studio che non presuppone necessariamente l'adozione di questo provvedimento da parte del Governo, ma un atto del genere ormai non viene escluso dallo stesso Premier Draghi all'interno di un percorso graduale. Nelle prossime settimane sarà allargata progressivamente la fascia di cittadini che dovranno munirsi di Green Pass. Dai dipendenti della pubblica amministrazione si passerà probabilmente ai lavoratori del settore privato, come ho spiegato ieri dal Ministro Brunetta. Questo è quanto ricostruisce appunto la Repubblica. Andiamo a vedere sulla stampa come viene trattato lo scenario appunto con Carlo Bertini. Green Pass è steso prima del voto, Draghi accelera sul decreto bis. Il decreto bis sul Green Pass, ovvero il provvedimento per ostenderlo a quasi tutte le categorie, sarà varato prima del voto delle amministrative. Questa è l'ipotesi più probabile che emerge da fonti qualificate di Governo. L'estensione sarà drastica, anche se ieri si sono rincorse voci nei Ministeri e nei partiti di un rischio slittamento dopo il 3 ottobre per non scontentare la Lega in piena campagna elettorale. Questa direzione non verrà concessa dal Premier e non trova riscontri a Palazzo Chigi. Piuttosto i tempi ristretti potrebbero indurre il Governo a mettere in Senato la fiducia sul primo decreto Green Pass approvato dalla Camera che scade il 21 settembre. Se servirà per blindarlo da un rischio di terza lettura la metteremo ma la Lega dice che lo vota. Frena però un'autorevole fonte di Governo. L'ipotesi non è in campo, tagliano corto da Palazzo Chigi. Insomma, come vedete ancora si sta discutendo. Restiamo sulla stampa perché c'è un'intervista a Massimo Galli, primario del Sacco di Milano, torna a parlare della necessarietà di vaccinarsi. Dice che l'unica arma è la vaccinazione, anche i sindacati devono capirla. E allora il Green Pass anche per i genitori aumenterebbe la sicurezza a scuola? Certo, e bisogna sperare che arrivi presto l'autorizzazione per vaccinare gli under 12. Questo è quanto sostiene appunto Galli in questa intervista. Andiamo a vedere ancora. C'è Renato Brunetta che interviene, critica le dichiarazioni fatte da Matteo Salvini. Ve le sintetizzo sostanzialmente. Ha detto che le varianti, come dire, sono una reazione al vaccino. E quindi per questo abbiamo questa molteplicità potenziale di varianti. Naturalmente questo ha innescato una serie di polemiche anche nel confronto politico e anche nella comunità scientifica. Allora il titolo soltanto di questo colloquio da Matteo solo proposte irrazionali, nessuna discussione fa propaganda. 7, 20 minuti e 38 secondi. La linea subito a Paolo Sottocorona. Se volete ci vediamo tra qualche minuto invece con le ultimissime notizie della giornata. A te Paolo, buongiorno. Sì, buongiorno. Questa è la situazione delle piogge, diciamo per la giornata di oggi, ma tenete conto che tutti questi fenomeni tenderanno nel corso della giornata a lasciare un poco la Sardegna, la parte meridionale della Corsica. Si concentrano sul tirreno, ma cominciano ormai, anche nella prima parte della giornata, a comparire in Sicilia, in Calabria. E poi vedete che sulle zone interne del centro, anche sull'Appennino settentrionale, oltre che sul Trentino Alto Adige, c'è la presenza di qualche fenomeno molto isolato, quindi non ha a che fare con questo tipo di circolazione, una bassa pressione, tempo molto instabile. Lì c'è una instabilità del pomeriggio in cui qualcosa si forma, però è come se si risentisse un po' a distanza di questa situazione, che è decisamente quella più pesante, più grave e quella principale. Dicevo, questo miglioramento c'è sicuramente e nella giornata di domani, domenica, troviamo ormai sparito tutto, quasi tutto, sia al nord che al centro, anche al sud. Inizialmente, fra Sicilia e Calabria, qualche fenomeno più intenso c'è nella mattinata, ma a fine giornata dovrebbe ormai essersi tutto spostato sullo Ionio, dando appunto un significativo segno di miglioramento. Vediamo anche la giornata di lunedì, che conferma questa situazione, i fenomeni isolati che possono interessare Calabria, Sicilia e ancora la Sardegna, vedete, sono proprio quelli del pomeriggio isolatissimi, uno strascico, resta dell'aria un po' instabile che nel pomeriggio si attiva in questa maniera, ma, diciamo, altro livello rispetto alla giornata di oggi. Vediamo le temperature minime di questa mattina, leggermente rialzate in alcune zone del sud, direi stazionari al nord, su valori che poi si discostano dalle medie un poco, ma non tantissimo. Ne parleremo dell'andamento delle temperature nel corso del fine settimana, chiudiamo con lo stato dei mari, che sono quelli, vedete, intorno alla Sardegna, al Tirreno, lo stretto di Sicilia, all'Oionio, da mossi a molto mossi. L'Adriatico, lontano, diciamo, da questo tipo di circolazione, rimane tranquillo, come però anche una parte del Tirreno. Se volete ci vediamo intorno alle 7.55, adesso pubblicità, e poi la prima edizione del nostro telegiornale, da più tardi. Grazie. 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 Grazie.